Il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra o troverà soltanto organizzazioni, come un gruppo di imprenditori della fede, tutti organizzati bene, che fanno delle beneficenze, tante cose. Nella Chiesa tutto nasce e cresce con la preghiera e quando qualche gruppo porta avanti riforme ecclesiali, solo con l'organizzazione, l'informazione, ma senza pregare, è il maligno, avverte il Papa, che vuol combattere la Chiesa così e allora sembra di andare avanti per inerzia. Ma dopo poco tempo la Chiesa si accorge di essere diventata come un involucro vuoto. Udienza del mercoledì, Francesco parla di fede, lampada che illumina la strada dell'evangelizzare, e preghiera, olio che la alimenta, sono i santi che sostengono il mondo con le armi della preghiera, non col denaro, il potere o i media, è la preghiera che apre la porta allo Spirito Santo. E c'è una domanda, conclude, che tutti noi cristiani dobbiamo farci. Prego sicuro che sono nella Chiesa e prego con la Chiesa, o prego un po' secondo le mie idee e faccio che le mie idee divengano preghiera. Questa è una preghiera pagana. Noi.